La Lega, visti anche i risultati odierni, ha il vento in poppa, però non esprimerà il candidato presidente. Però c'è necessità di arrivare a un nome che però per il momento non c'è. Giustamente il partito sta facendo delle valutazioni, ha in qualche modo implementato una rosa di nomi, da questa rosa di nomi è venuta fuori una triade che probabilmente sarà la sintesi di quella che è l'azione dei nostri alleati. Spero in maniera veloce, molto presto, che ci diano comunque un candidato governatore per sapere chi ci dovrà rappresentare e con chi anche noi della Lega dovremo in qualche modo confrontarci. Non è un discorso di pazienza, è un discorso che sappiamo tutti che dall'8 di dicembre all'8 di gennaio sarà difficile fare una campagna elettorale a pieno ritmo. Abbiamo anche la giusta preoccupazione che poi a gennaio, soprattutto per la neve, per gli eventi meteorologici, anche lì potrebbe esserci un'azione limitata. Credo che il novembre sia un mese fondamentale, dobbiamo partire subito. E' espresso il gradimento sulla stampa per Foschi. Nel caso di Giandonato e nel caso del senatore Marsiglio le criticità derivano nel primo caso da una sconfitta elettorale a Teramo che potrebbe avere uno strascico su un discorso di credibilità e di autorevolezza. Sul senatore Marsiglio che è una candidatura di bandiera, quindi una candidatura importante, qualcuno e forse anche più di qualcuno, non essendo lui abruzzese, anche se di matrice abruzzese, perché mi risulti essere nato in Abruzzo, però qualcuno potrebbe anche pensare una serie del tipo. L'hanno dovuto prendere da Roma. Per quanto riguarda il dottor Foschi, è un viso nuovo, è un medico. Ho già detto che la sua competenza, la sua professionalità possono essere molto utili, soprattutto per quello che riguarda poi un'inversione di tendenza, un cambio di rotta, in uno dei settori più strategici della regione, che è quello che occupa l'80% del bilancio, e cioè appunto la sanità. Anche lui però paga una criticità, cioè di non avere esperienza politica, ma su questo con calma, mettendogli intorno a una squadra chiaramente composta da tutti i partiti della coalizione, penso che sia una cosa che si possa magari col tempo superare.